Secondo impegno consecutivo domani in trasferta per il Teramo che sarà di scena in casa del Renate a caccia di quella continuità che finora negli ultimi mesi è mancata per i Biancorossi e che sarebbe molto importante domani per fare un passo probabilmente decisivo verso la salvezza. Oggi ha parlato il tecnico Genere Maurizzi e ascoltiamo un estratto di quello che ha detto quest'oggi. Nel caso ci fosse un risultato positivo, questo lo sapremo soltanto dopo una partita, ma in caso di risultato positivo potremmo dire di aver fatto un bel passo in avanti verso l'obiettivo. So quello che facciamo durante la settimana dal punto di vista tecnico, tattico, fisico e motivazionale quindi lavoriamo su questo. Soltanto durante la partita, quello che vediamo durante il campo ci dirà se abbiamo preparato bene o male. È una squadra, è una buona squadra, tra l'altro guidata da un ottimo allenatore, quindi i risultati sono frutto di tante variabili e non solo del lavoro di un tecnico, di una squadra. Quindi lasciano il tempo che trovano, lasciano il tempo che trovano e sono determinanti, però se non si fa risultato non è che è detto che la squadra si allena male o gioca male. Conosco Renati, conosco benissimo il suo tecnico e so che è una partita molto difficile e che è una buonissima squadra, molto organizzata. Per quanto riguarda la formazione si va verso la conferma del 3-5-1-1 con De Grazia alle spalle, probabilmente di Sparacello perché Infantino ha si recuperato e si con la squadra, ma dovrebbe comunque partire dalla panchina. C'è un dubbio Proietti perché ha accusato una leggera distorsione al ginocchio nelle ultime ore, al ginocchio destro, quindi se non dovesse farcela domani al suo posto ci sarà Persia. Nessun dubbio negli altri ruoli, con Pacini di nuovo confermato ovviamente al posto di Lewandowski tra i pali. Per quanto riguarda il Renate, rientra a disposizione l'attaccante e capo cannoniere della squadra, Gomez. Mattia ieri ha avuto un piccolo problema molto banale tra l'altro, una pallonata sul piede e si è girato il ginocchio e quindi avverte dolore, lo portiamo in ritiro ma potrebbe anche essere utilizzato, vedremo domani, faremo delle scelte domani. La stessa cosa va per Infantino che comunque sta molto meglio rispetto al settimana scorsa. Logicamente con un calciatore in più a centro campo riusciamo a palleggiare in maniera diversa, a coprire alcune lacune di caratteristiche dei nostri calciatori. Però poi le partite, secondo le circostanze, richiedono l'utilizzo più o meno di una seconda punta o di un trequartista, ma abbiamo provato così perché pensavamo che in questo finale di stagione magari ci sono delle condizioni in campo dove qualche squadra usa di più o qualcuna di meno e quindi ci dà molto equilibrio l'uso del trequartista, ma non è detto che domani giochiamo con il trequartista.